Buongiorno a tutti a nome del gruppo al Senato Lega Salvini Premier Daz alla presentazione ufficiale del disegno di legge enorme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Già nel titolo c'è l'essenza del provvedimento, per noi non si tratta di parlare necessariamente di consumo ma di utilizzo responsabile. Ecco le finalità che si stabilisce se siamo di fronte a un utilizzo positivo o negativo. Vorrei ringraziare della presenza ovviamente il capogruppo Massimiliano Romeo perché questo è un disegno di legge che porta la firma dell'intero gruppo per l'importanza che attribuiamo al provvedimento. E ovviamente ringrazio anche l'onorevole Vania Gava, sottosegretario dell'Ambiente perché è un testo che ha visto non solo il contributo ovviamente di tutti i colleghi delle due commissioni Ambiente e Agricoltura ma uno stretto rapporto col sottosegretario e con l'intero partito per quanto riguarda un provvedimento che è per noi basilare e fondamentale e che se interpretato in modo corretto può rappresentare un volano per il nostro Paese pur ovviamente nel tentativo di ridurre l'utilizzo del suolo mentre se dovesse essere interpretato in maniera negativa potrebbe rappresentare un appesantimento e un rischio per il Paese stesso. Lascio la parola prima al capogruppo Romeo per un indirizzo di saluto e al sottosegretario Gava mentre poi i colleghi Arrigoni e Bergesio entreranno nel merito del testo. trovate indicati i quattro punti cardine del disegno di legge che sono appunto utilizzo responsabile, bilancio ecologico, progressività e saldo zero dell'utilizzo e rigenerazione urbana che sono gli aspetti che tratteremo nel corso della conferenza stampa. Grazie. Va? Funziona? Mi sentite? Bene. Buon pomeriggio a tutti intanto. Si porto ovviamente i saluti di tutto il gruppo della Lega, il Senato perché in ogni caso questo è un disegno di legge preparato, predisposto dal nostro gruppo che si andrà a unire a tanti altri disegni di legge che sono stati depositati dagli altri gruppi in modo tale che si possa finalmente di confrontare questo tema con una legge nazionale. Naturalmente essendo molto rispettosi di quelle che sono le competenze concorrenti e anche di quelle che sono le richieste varie di autonomia che provengono dalle varie regioni noi stiamo parlando qui di un disegno di legge quadro che fissa sostanzialmente quelli che sono i principi perché poi chiaramente dobbiamo dare ampie competenze e autonomia a quello che è il ruolo anche delle nostre regioni. Tra l'altro a tal proposito ricordo arrivando proprio da Legione Lombardia dove la Legione Lombardia è stata una delle prime regioni proprio a introdurre questa limitazione del consumo di suolo e quindi è già stato fatto, insomma abbiamo già affrontato, ricordo di aver affrontato in maniera molto responsabile questo tema, questa tematica perché se da una parte giustamente dobbiamo contrastare l'utilizzo di nuovo suolo pubblico, suolo agricolo e quindi questo naturalmente cercando di rispettare l'ambiente dall'altra però non possiamo neanche, cioè dobbiamo fare una legge equilibrata infatti noi parliamo sempre di buonsenso e anche quando affrontiamo queste tematiche ci vuole razionalità e buonsenso perché da una parte è giusto, abbiamo un sacco di aree dismesse, bisogna metterci gli incentivi, bisogna fare tutta una serie di operazioni che cerchino di valorizzare quello che già abbiamo e ce ne sono tante di zone su cui si può lavorare dall'altra parte evitare di consumare nuovo suolo, soprattutto agricolo, laddove i piani regolatori prevedono già questo nei vari comuni però dall'altra parte non possiamo neanche troppo limitare quello che può essere lo sviluppo economico perché giustamente c'è anche il tema del lavoro, si arrivano in presa, si vuole insediare, vuole dare posti di lavoro ai nostri cittadini e non dobbiamo essere troppo restrittivi, quindi le due cose devono cercare di andare insieme ed è quello che è un po' l'obiettivo che noi ci siamo prefissi nel nostro provvedimento poi è chiaro che non sto lì a inencare tutto perché altrimenti poi finisco la conferenza stampa giustamente qui abbiamo tanti colleghi che entreranno più nel dettaglio tecnico che possono poi anche rispondere a tutte le domande puntuali e precise però la filosofia è questa e quindi questo buonsenso, questo utilizzo di buonsenso che prende spunto già dal lavoro fatto dalla Lombardia ma lo arricchisce con dei nuovi elementi grazie all'esperienza che arriva anche da altre regioni visto che insomma i senatori arrivano un po' da tutto il territorio quindi hanno avuto a che fare su questa tematica in tante altre situazioni quindi possono dare il loro rapporto e poi è chiaro, già lo anticipo che questo provvedimento dovrà poi essere valutato, vagliato prima in sede di maggioranza di governo e dopodiché anche aperto a quello che è un confronto che noi ci auguriamo essere proficuo con le minoranze ci sono diversi disegni di legge che vanno in questa direzione quindi speriamo di riuscire a farcela perché un tentativo simile fu fatto nella scorsa legislatura senza ottenere poi un risultato concreto e noi come obiettivo ci prefiggiamo questo intanto vi ringrazio ancora buona giornata si lascio la parola al sottosegretario Gava ringrazio il capogruppo per questo passaggio relativo alle normative regionali che abbiamo ovviamente preso in considerazione insieme anche ai tanti contributi delle associazioni di categoria e alle tante audizioni dei professionisti dell'università che in queste settimane sono stati auditi dalle commissioni grazie senatore buongiorno a tutti voi ringrazio il gruppo della Lega Senato in particolare oggi per essere con noi anche il presidente Massimiliano Romeo ringrazio i colleghi senatori delle commissioni specialmente agricoltura e ambienti che hanno collaborato che abbiamo collaborato nella stesura di questo testo voglio ringraziare un ringraziamento particolare anche ai funzionari dell'ufficio legislativo degli uffici legislativi che ci hanno supportato perché questo è il frutto di un lavoro di squadra di un lavoro è una sintesi politica e legislativa e in un tema delicato come quello del consumo di suolo o dell'utilizzo del suolo un tema delicato perché? perché negli anni insomma con l'edificazione selvaggia si è abusato molto del suolo che purtroppo è una risorsa che non è rinnovabile e quindi adesso girando anche nei centri, nelle periferie vediamo questi capannoni industriali li vediamo che sono lasciati abbandonati che sono sintomo di degrado vediamo che è stato costruito in posti dove con gli anni poi ci sono stati creati dei grossi problemi di sestro idrogeologico insomma abbiamo abusato molto e quindi è giusto ora andare in una direzione di riutilizzo del suolo un riutilizzo intelligente del suolo riutilizzo intelligente che cosa vuol dire? vuol dire, poi i colleghi vi spiegheranno nel dettaglio scenderanno nei particolari nell'illustrarvi come vogliamo incentivare fiscalmente gli enti virtuosi e le amministrazioni nel riutilizzo ed efficientamento energetico appunto del suolo per creare anche crescita per creare crescita perché come diceva bene il presidente Romeo noi dobbiamo avere fiducia negli investitori dobbiamo accompagnarli verso un percorso la crescita non si fa con i divietti non si fa con la burocrazia non la si fa a colpi di no ma si fa lavorando insieme creando regole che debbono essere ovviamente rispettate ma per noi deve essere un utilizzo intelligente dell'ambiente utilizzo intelligente vuol dire lavorare bene lavorare insieme per la tutela dell'ambiente ma anche per creare un diritto al lavoro all'economia e alla crescita di questo paese secondo noi questa è la vera riforma e questo è il vero cambiamento questo è il modo nostro della Lega di vedere tutela ambientale e crescita economica del paese vogliamo investire in un rapporto con gli investitori un rapporto di fiducia e non di divieti quindi questo provvedimento va in questa direzione adesso vi entreranno nel dettaglio ma io davvero ringrazio ancora una volta chi ha collaborato con me e con noi insomma per la stesura di questo documento e nei ringraziamenti voglio anche ricordare tutti gli apporti che sono stati dati quindi penso al mondo dell'associazionismo penso al mondo dell'imprenditoria e quindi insomma voglio ringraziare perché veramente tutti gli attori sono stati coinvolti in questo importante provvedimento e quindi ringrazio tutti e lascio la parola al senatore Brizziarelli grazie naturalmente a tutti voi grazie al sottosegretario ma comunque grazie anche a tutti i colleghi senatori che si sono impegnati grazie al capogruppo Romeo per la disponibilità che ha sempre verso tutti noi io credo che oggi sia un giorno importante per il nostro movimento per la Lega perché abbiamo fatto un lavoro di squadra tra tutti noi senatori con gli uffici naturalmente per presentare un disegno di legge in commissione dove disegno di legge diciamo il vero ce ne sono già molti però noi abbiamo lavorato a lungo in questo periodo per presentare un disegno di legge che affrontasse due emergenze nazionali e poi anche un principio importante intanto l'uso razionale del suolo che è fondamentale perché questo è un passaggio importantissimo l'altro è il rischio idrogeologico perché viviamo in un paese che ha un altro rischio idrogeologico e poi il riconoscimento per così dire importante che abbiamo inserito qui insieme al presidente Vallardi della commissione agricoltura che l'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio una figura che come si diceva prima noi siamo per il bicchiere mezzo pieno noi proponiamo delle cose importanti per far crescere e per condividere a livello ambientale e sociale le scelte che facciamo è un testo composito ha una finalità che è quella dell'azione politica nostra soprattutto di lasciare un paese migliore di quello che abbiamo ricevuto perché rischiamo magari in futuro di lasciarlo anche peggio però vogliamo lasciarlo migliore guardate il nostro paese ha un livello di consumo di suolo tra i più alti d'Europa negli anni 50 si parlava di un 2,7% della superficie che era urbanizzata oggi siamo arrivati secondo Ispra al 7,7% che è un dato molto alto e questo processo non si è ancora arrestato e il risultato è accompagnato negli anni è stato quello di una minor cura del territorio invece noi vogliamo anche dare forza ed energia alla cura del territorio ed è aumentato perciò il rischio idrogeologico il 91% dei comuni e sono tanti hanno problemi di rischio idrogeologico nel nostro paese noi proponiamo un nuovo modello di governo del territorio attraverso questo disegno di legge naturalmente aperto a tutti i miglioramenti possibili sicuramente non lo vogliamo peggiorare è anche un modello che promuove l'uso agricolo del suolo invece che l'aumento dei siti edificati in aree verdi noi abbiamo visto che a volte anche gli stessi comuni le stesse regioni nei piani regolatori non hanno così tutelato il suolo e soprattutto la parte destinata alla lavorazione agricola quella che è una funzione importante di presidio comunque di territorio questo è un modello che noi vogliamo tracciare in linea con quelle che sono le politiche europee però con una certa con maggiore attenzione di quanto ci vuole imporre l'Europa per arrivare al consumo zero nel 2050 sempre vedendo nella fattispecie se questo sarà possibile però il disegno di legge è stato tracciato su questi principi noi ci arriveremo solo e ne siamo convinti attraverso il riuso la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree degradate allora qui sono stati inseriti in questo disegno di legge degli incentivi importanti per far sì che si dia modo anche soprattutto a chi investe in questo sistema anche soprattutto al di fuori delle aree urbane perché poi ci dimentichiamo abbiamo aree urbane periferie eccetera ma le aree i centri abitati anche piccoli di cui questo governo ha già prestato un'attenzione importante già nella legge di bilancio però guardate questo è un passaggio importante se no rischiamo di non avere presidi di territorio sia in pianura che in collina che in montagna noi lo sappiamo bene perché veniamo da territori dove comunque patiscono queste necessità importanti noi chiudiamo con l'epoca dell'urbanistica dell'espansione urbanistica a prescindere e apriamo quella dell'urbanistica riqualificata che è quella che ci interessa maggiormente la riqualificazione la rigenerazione il riuso corretto e dall'altra parte non abusare di quelli che sono le parti più importanti dei territori noi non chiudiamo come ha detto bene prima il sottosegretario ed è correttissimo non chiudiamo lo sviluppo le costruzioni ma vogliamo stimolare per rendere le costruzioni più convenienti per i cittadini e soprattutto compatibili con l'ambiente e con la vivibilità dei territori dove queste costruzioni vengono edificate vogliamo prevenire anche così le problematiche legate alle zone terremotate i danni per le alluvioni veniamo da zone che comunque negli anni hanno patito questi danni importanti da rischio idrogeologico l'altra parte poi ed è centrale ed è importante il riconoscimento della centralità del ruolo di chi cura la terra cui viene attribuito il marchio dell'agricoltore custode dell'ambiente noi vogliamo riconoscere soprattutto all'agricoltore a colui che lavora a colui che vive anche in ambienti disagiati perché importante magari è farsi la passeggiata nell'ambiente diciamo dell'area verde di campagna di bosco di vicinanza anche di presidi importanti che sono quelle di aree anche molto belle come le colline o le montagne ma vivere questi territori e soprattutto noi vogliamo tutelare contro il rischio di desertificazione di sesto idrogeologico e il presidio vuol dire anche la salvaguardia da incendi che a volte nei territori più disagiati e anche o di montagna o di collina sono dei rischi molto forti e molto importanti ecco questo è un po' il quadro di questo disegno di legge che è stato curato in modo particolare per dare delle risposte importanti senza naturalmente creare diciamo delle problematiche né immediate né nel lungo tempo ma far sì che chi viene nel nostro paese viene accolto può vivere può rigenerare può costruire può fare le cose bene compatibilmente con le scelte che sono state fatte da un governo e da un Parlamento serio grazie faccio la parola al collega Vallardi che ci ha raggiunto che era impegnato in commissione che è presidente della commissione agricoltura grazie buongiorno innanzitutto grazie a chi ha organizzato grazie al sottosegretario Zava e a tutti i colleghi della commissione agricoltura e commissione ambiente per aver collaborato si parlava prima di gioco di squadra è stato effettivamente un gioco di squadra su un tema importantissimo quella della legge del consumo del suolo mi scuso per il ritardo perché eravamo in commissione agricoltura stavamo parlando dei consorsi dei consorsi di bonifica ed eravamo comunque in tema sulla legge del consumo del suolo in quanto chiaramente anche la criticità idraulica che si sta evidenziando non solo in questo periodo ma ormai da diversi anni è forse anche un segno evidente di un uso indiscriminato del consumo del suolo veniamo da un territorio parlo del nord ma non solo del nord tanti esempi negativi ce li abbiamo anche al sud di un uso indiscriminato del consumo del suolo tantissime zone industriali forse abbiamo tante zone industriali quanti sono i comuni nel nostro paese e questo sta a significare che per il passato tanti errori sono stati fatti chiaro che dobbiamo prendere sicuramente spunto dall'esperienza e dagli errori fatti dal passato per chiaramente riuscire a rimediare possibilmente oggi e questo disegno di legge è una grande opportunità per cercare di porre rimedio agli errori che sono stati fatti in passato quindi un grande lavoro un grande lavoro consapevole da parte del gruppo della Lega in questa predisposizione di questo disegno di legge chiaramente con un occhio ripeto forse le parole fatte da chi mi ha preceduto ma sicuramente con un occhio allo sviluppo perché sicuramente bisogna andare avanti io nego assolutamente quello che è magari alcune riflessioni fatte da politici anche in questi ultimi anni quando si parla di decrescita felice io non credo che ci possa essere assolutamente una decrescita felice di essere comunque una crescita consapevole e possibilmente una crescita felice come lo possiamo fare? Come possiamo fare con sicuramente più attenzione più oculatezza possiamo farlo sicuramente e lo dico per l'ultima volta prendendo spunto dagli errori del passato si parla molto in questo periodo visto che si parla in tema di ambiente di economia circolare ecco io credo che anche sul consumo del suolo si possono applicare credo i criteri dell'economia circolare recuperando recuperando tutto recuperando tutto in maniera consapevole chiaro che il blocco dell'uso del consumo del suolo blocco dell'uso del consumo del suolo che è un testo da parte di alcuni colleghi che hanno fatto un disegno di legge con questo testo io credo assolutamente non si possa andare da nessuna parte ci sono tante cose che dobbiamo fare per prima la viabilità che sicuramente ha bisogno di consumo del suolo penso agli invasi dal punto di vista idrogeologico per quanto riguarda l'irrigazione nel nostro territorio penso agli invasi sempre dal punto di vista idraulico per quanto riguarda chiaramente anche i problemi idraulici del nostro territorio perché i cambiamenti climatici sono comunque da tenere in considerazione tutte cose che hanno bisogno di consumo del suolo ancora per il futuro ma deve essere un consumo del suolo oculato consapevole e proiettato comunque in uno sviluppo sostenibile ecco io credo che tutti questi criteri siano comunque ripresi all'interno del nostro disegno di legge chiaro che il nostro disegno di legge è uno dei tanti disegni di legge che sono stati depositati avremo sicuramente la capacità qui guarda il nostro capogruppo Romeo come sempre avremo la capacità di fare sintesi tra questi disegni di legge ma credo che gli obiettivi che vogliamo raggiungere saranno sicuramente in questa direzione lasciare un futuro migliore ai nostri figli grazie prima di lasciare le conclusioni al collega Rigoni che è un po' anche la memoria storica perché questo tema l'ha approfondito l'ha seguito anche nella precedente legislatura e quindi per noi è stato importante poter contare sul suo contributo per non partire da zero solo tre sottolineature che ritengo importanti la prima l'orizzonte temporale se a livello europeo si parla di consumo netto pari a zero al 2050 noi riteniamo che sia fondamentale avvicinarsi progressivamente perché un atteggiamento diverso potrebbe paradossalmente essere addirittura dannoso secondo aspetto dicevo utilizzo netto perché anche nella presentazione dei dati ISPRA del 2018 è stato sottolineato come sia pur vero che il suolo non è una risorsa rinnovabile è comunque una risorsa rigenerabile quindi il processo è reversibile è importante anche la superficie che nel 2018 è stata liberata non a caso il disegno di legge accanto a un fondo per la rigenerazione urbana prevede anche un fondo per la rigenerazione del suolo urbanizzato in ambiente rurale per quelle strutture ad esempio abbandonate da più di dieci anni che potrebbero essere eliminate avviando un percorso positivo e quindi questo ci permetterebbe appunto di valutare il saldo nel momento in cui dovesse essere a zero anche l'occupazione di suolo vergine da un lato potrebbe prevedere in una strategia complessiva di liberare suolo attualmente utilizzato in passato in utilizzato allo stato attuale dando comunque una somma a zero ultimo aspetto come dicevo bilancio ecologico perché ad esempio l'occupazione di un ettaro di terreno ad esempio per realizzare un impianto di depurazione che evitasse la dispersione e lo scarico a mare sarebbe sì un utilizzo di suolo vergine ma porterebbe in termini ambientali un vantaggio non si può valutare solo l'utilizzo di suolo ma anche l'impatto in termini ambientali ovviamente positivo che l'utilizzo del suolo può avere e quindi di sconoscerne l'utilità a priori ragionando in termini di zero utilizzo sarebbe addirittura come dicevo dannoso lascio le conclusioni al collega Rigoni lo ringrazio per essere presente oggi grazie un buongiorno a tutti io ringrazio te Luca per avermi concesso le conclusioni saluto il capogruppo Massimiliano Romeo sottosegretario Gava tutti i presenti allora noi abbiamo predisposto questo disegno di legge avendo diverse consapevolezze la prima è che certamente il suolo è una risorsa non rinnovabile certamente rigenerabile due che c'è un obiettivo che ci pone l'Europa che al 2050 il consumo di suolo deve tendere a zero siamo arrivati tra i gruppi politici tra gli ultimi se non l'ultimo a fare questo disegno di legge ma perché innanzitutto ci sembrava doveroso e importante considerare tutte le leggi regionali che tante regioni hanno prodotto in materia la Lombardia l'ha citato prima il capogruppo Romeo c'è anche il Veneto c'è l'Emilia Romagna c'è l'Umbria c'è la regione la provincia autonoma di Trento ma poi abbiamo voluto anche ascoltare e ponderare bene quanto hanno dichiarato i tanti soggetti che sono stati uditi prima della commissione tredicesima ambiente territorio e poi da un certo punto in avanti in commissione congiunta tra la commissione ambiente e la commissione agricoltura questo perché per noi è importante era importante sentire gli stakeholders quindi associazioni ambientaliste associazioni datoriali e imprenditoriali per noi è importante tendere a quell'obiettivo con progressività per noi è importante il suolo quale risorsa non rinnovabile conosciamo bene i dati di Ispra che avvertono e allertano in ordine al consumo di suolo ma per noi è importante perseguire quell'obiettivo con progressività e soprattutto tenendo conto di quei territori di quanto hanno fatto quei territori che si sono dotati non solo di leggi regionali ma anche dei vari enti locali che attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica hanno messo in atto un perseguimento di questo obiettivo per noi importante è lo sviluppo del paese che non può che passare attraverso la realizzazione di infrastrutture e la realizzazione di impianti per cui è fondamentale l'avere introdotto il concetto di bilancio ecologico l'ha detto prima Brizziarielli la realizzazione di un impianto di depurazione porta ai benefici dal punto di vista ambientale ma anche la realizzazione di un tracciato ferroviario e quindi il passaggio dalla mobilità di gomma a quello di ferro è sicuramente benefico insomma abbiamo introdotto il concetto di un passaggio dall'urbanistica dell'espansione a quella della riqualificazione è per noi molto importante è stato molto importante e ci abbiamo dedicato un ampio capitolo il tema della rigenerazione urbana siamo arrivati a definire un disegno di legge articolato su 11 articoli certamente perfettibili siamo disposti al confronto ovviamente con tutte le altre forze politiche auspichiamo come come lega che si possa giungere quanto prima al vario di una di una legge in tema in pendenza di questo perché certamente dovrà passare del tempo comunque il governo tenuto conto dell'importanza del tema della rigenerazione urbana lo dico qua nell'ambito dell'emanando decreto sblocca cantieri che ha visto accorpare anche il decreto terremoto che riguarda in particolare il terremoto della provincia di Catania e quello del Molise dello scorso anno ha voluto dedicare un articolo proprio in tema di rigenerazione urbana perché noi ritorniamo importante per questo paese cercare di sbloccare determinate situazioni di stallo e quindi in pendenza del vario della legge che ci auspichiamo possa avvenire quanto prima ovviamente secondo i dettami i principi che sono contenuti in questo nostro disegno di legge che è importante equilibrato che non blocca il paese con quell'articolato contenuto ma importante nel decreto sblocca cantieri si possa consentire uno sblocco della situazione e quindi mettere in atto quegli interventi di riqualificazione dell'esistente che in molti parti del paese è assolutamente presente grazie se ci sono domande da parte della stampa allora grazie a tutti grazie e buona serata grazie 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 grazie